grazie non so se vedete il mio schermo credo di sì lo vedete ok buonasera buongiorno a tutte e a tutti grazie per l'invito anche da parte mia e per l'organizzazione di questa di questa iniziativa e io mi chiamo duccio facchini sono un giornalista e sono il direttore della rivista altre economia che esiste dal 1999 edita da una cooperativa e ci occupiamo tra gli altri insomma tra i temi che ci stanno a cuore ovviamente c'è il tema dei diritti delle migrazioni e in questo caso con particolare attenzione alla rotta balcanica come diceva bene agostino zanotti prima nell'estate di quest'anno abbiamo collaborato facendo parte della rete rivolte ai balcani alla pubblicazione di questo dossier di cui poi vi inoltre il link nella chat e che potete trovare gratuitamente scaricabile dal sito di altra economia si intitola la rotta balcanica è stato fatto a più mani e rappresenta insomma una un documento una presa di posizione della rete rivolte ai balcani e in merito a queste ai temi che diceva prima agostino a me è stato chiesto e d'accordo con zanotti di entrare magari più nel merito della rotta e di fornire quello che è un aggiornamento della situazione lo farò appunto attraverso queste diapositive che spero riusciate a vedere per poter affrontare il tema della rotta balcanica è necessario in maniera molto superficiale adesso scusate per ragioni di tempo devo assolutamente sintetizzare alcuni passaggi e quindi magari non sono precisissimo nella nella è dettagliato ma abbia dato il beneficio appunto della della sintesi però di ciò per avere chiari quelli che sono ovviamente i sommi capi della rotta balcanica è necessario osservare a quelle che sono le dinamiche migratorie la cosiddetta crisi dei rifugiati che avrebbe interessato l'unione europea negli ultimi cinque anni che tale ovviamente non è ma che è stata ingigantita dal punto di vista dei flussi dei numeri per poterne ricavare consenso elettorale maturato sulle sulle paure sulle inquietudini ingiustificate dei cittadini europei e italiani e facendo riferimento a questa cartina elaborata da frontex quindi dell'agenzia europea che si occupa del controllo delle frontiere dell'unione e del contrasto i cosiddetti attraversamenti irregolari delle frontiere questa è la rappresentazione dei flussi che hanno interessato il continente europeo negli ultimi anni la riga viola che interessa la parte orientale dell'unione europea è quella che ci quella che insomma di cui parliamo oggi pomeriggio questi prima di entrare nella nella rotta è fondamentale avere una sempre una una fotografia dettagliata dei numeri con tutti i limiti che poi dietro i numeri ci stanno ovviamente questi sono i numeri dei cosiddetti arrivi irregolari sempre per utilizzare il vocabolario del controllo del contrasto dell'unione che è diventata politica ed è diventata bussola negli anni ai noi come diceva anche prima il professor colucci però insomma a proposito degli arrivi irregolari questi sono gli ultimi cinque anni degli arrivi e nell'unione europea sempre irregolari distinti per tipologia di rotta quindi abbiamo la rotta del mediterraneo centrale in colore rosa la rotta del mediterraneo orientale con particolare interessamento della grecia e poi la rotta del mediterraneo occidentale se noi confrontiamo questo andamento degli arrivi con come fa il denis refugee council con invece l'andamento dei delle persone dei migranti forzati nel mondo dell'andamento dei migranti forzati nel mondo si può apprezzare in senso lato la chiusura dell'unione e quindi anche della rotta orientale in particolare dall'inizio più o meno dell'anno 2016 in concomitanza con il cosiddetto impropriamente detto accordo tra unione europea e turchia la prendo alla larga perché è importante avere ben presente questa dinamica di chiusura per capire perché poi determinati fatti avvengono e continuano ad avvenire lungo la rotta balcanica nel cuore dell'europa se noi allarghiamo il fuoco e osserviamo gli arrivi sempre cosiddetti irregolari negli ultimi dodici anni nell'unione europea noi vediamo che l'anno della del picco è stato limitato al 2015 tutti lo ricorderete anche con foto tragiche eh di insomma di minori eh lungo le le rive eh senza vita dopodiché la curva è andata appiattendosi ma è un appiattimento dovuto alla funzionamento eh della eh esternalizzazione delle frontiere sempre ovviamente attraverso i dati ufficiali poi sappiamo che le persone eh con insomma grave pregiudizie dei loro diritti poi alcune riescono comunque ad attraversare a passare per quanto riguarda la rotta balcanica questi sono i numeri qui non ho indicato la fonte mi scuso ma la fonte sempre l'agenzia europea Frontex dove vedete come nel 2015 i flussi lungo la rotta balcanica erano stati misurati inoltre in circa 800.000 persone eh e diminuite a 130.000 quindi fortemente nel 2016 per ridursi a 5.869 nel 2018 in realtà questi numeri sono fortemente sottostimati rispetto alla realtà eh come poi eh vedremo più avanti per quanto riguarda il 2019 sempre dati Frontex queste sono le frontiere se noi osserviamo la rotta balcanica occidentale che è percorsa eh in particolare eh in particolare da cittadini provenienti dall'Afghanistan dalla Siria dall'Iraq sempre dati Frontex quindi da paesi particolarmente segnati da sconvolgimenti eh interni ed esterni vedete come ehm il dato già del 2019 fotografava un incremento sensibile rispetto al 2018 cioè in un contesto complessivo di relativa diminuzione quindi dai 150.000 attraversamenti del 2018 ai 141.000 nel 2019 eravamo passati invece sulla rotta balcanica da poco meno di 6.000 a 15.152 questo per fotografare una dinamica di pressione crescente lungo la rotta e del fatto che le persone erano state progressivamente intrappolate all'interno della rotta perché è chiusa alle spalle eh guardando verso la Turchia e chiuse davanti eh guardando verso eh la Germania l'Italia eh la Slovenia ovviamente poi paesi di attraversamento della lungo la rotta eh nel 2020 questa dinamica è confermata perché se noi osserviamo i dati dal gennaio all'agosto di quest'anno eh possiamo vedere come eh gli arrivi cioè gli attraversamenti irregolari fotografati da Frontex erano aumentati nei primi otto mesi di quest'anno del 94% rispetto all'anno precedente a differenza di una diminuzione nella rotta del Mediterraneo orientale tra Grecia e Turchia di un incremento eh del Mediterraneo centrale di quasi il 200% di una diminuzione della della rotta tra eh Nord Africa e Spagna. Eh il dato si è ulteriormente accresciuto con il mese di settembre quando eh questo è l'ultimo aggiornamento di Frontex quando eh abbiamo raggiunto i quindicimila e novecento eh le quindicimila e novecento persone rintracciate eh in corso di attraversamento dei confini dell'Unione Europea nei Balcani eh della rotta balcanica occidentale il cento per cento in più rispetto ai nove mesi del 2019 e questo è eh molto rilevante. Per quanto riguarda la Bosnia che è uno snodo centrale anche all'interno del nostro report questa è una cartina molto utile eh fornita eh da UNHCR eh che eh fotografa la situazione dei campi all'interno del paese eh della 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 Bosnia e Herzegovina ehm e qui vedete la concentrazione verso il nord ovest del paese di alcuni campi che certamente chi sta seguendo questo convegno conoscerà e di alcune località come Velika, Kladuja, come Biac sono zone poiché poste al confine e al e all'incrocio in particolare con con la Croazia e con la Serbia sono zone di concentrazione come diceva anche prima bene Zanotti delle persone che tentano di compiere quello che viene definito game e quindi l'attraversamento e il raggiungimento di eh della della propria meta migratoria. Questo video lo salto perché non credo che parta eh era un video di Human Rights Watch perché a questo punto il tema da affrontare è che cosa succede a danno di queste persone lungo la rotta. Succede quello che i giornali internazionali in particolare io cito il Guardian ma non solo e in Italia non tantissimi ovviamente altra economia non è da sola accade eh una eh come dire avviene ehm assistiamo a una a una situazione di gravissime violenze e di abusi e di trattamenti inumani e degradanti da parte anche in particolare ma non solo della polizia croata. Quest'anno le fotografie raccolte ad esempio dal Danish Refugee Council sono state numerose le testimonianze raccolte di migliaia di respingimenti ehm portati avanti dalla polizia croata con ad esempio trattamenti come quelli che vedete chi rappresentato quindi persone a cui vengono disegnate delle croci sulle teste persone a cui vengono spaccati arti eh che subiscono pestaggi che subiscono eh la distruzione dei propri eh effetti personali dei telefonini delle scarpe abbandonati al freddo al buio al gelo pestati con la distruzione dei documenti e con respingimenti collettivi tra la Croazia e la Bosnia eh citavo DRC perché ogni mese questo è un invito che faccio a chi ci segue se già non lo fanno se già non lo fate di consultare eh i rapporti che mensilmente il DRC eh elabora che è presente in Bosnia perché è l'ultimo di ottobre eh contiene delle informazioni preziosissime uno eh da quando eh il eh Danish Refugee Council misura i respingimenti eh avvenuti verso la Bosnia avvenuti in particolare in Croazia lungo la rotta balcanica quindi dal maggio dello scorso anno del 2019 siamo arrivati a quasi 21.500 persone che hanno riferito di respingimenti verso la Bosnia cioè numeri clamorosi e questo è l'andamento mensile eh dall'agosto del duemila e diciannove all'ottobre di quest'anno ottobre di quest'anno che tristemente è diventato il mese del picco dei respingimenti fotografo fotografati dal DRC e vedete che c'è stata quella depressione nel marzo del duemila e venti ovviamente legata alle ai deflussi collegati alla eh diffusione della pandemia da covid-19 dopodiché si è represi eh esattamente come prima eh con appunto quasi duemila respingimenti al mese riportati all'attenzione del DRC in che zone ovviamente nelle zone di confine nelle zone di prossimità tra la Bosnia e la Croazia nel mese di ottobre eh sono stati misurati quasi duemila respingimenti eh in particolare a danno di eh uomini eh qui vedete la la suddivisione tra uomini eh ragazzi eh donne e e così via eh da dove provenivano le persone che hanno riferito i respingimenti anche qui ritroviamo eh provenienze eh familiari per quanto riguarda questo tipo di rotta e quindi in particolare dal Pakistan, dal Bangladesh, dall'Afghanistan, dall'Iraq. Quindi stiamo parlando di persone eh che eh nella nella stragrande maggioranza dei casi sono eh eh diciamo in situazioni di eh richiesta di protezione internazionale di riconoscimento dovuto di protezione internazionale. Che cosa riferiscono dal punto di vista delle violenze queste persone? Riferiscono nella stragrande maggioranza dei casi della distruzione come vi dicevo prima degli propri effetti personali ehm dopodiché ci sono eh trattamenti eh abusi e i trattamenti in umani degradanti, abusi fisici, percosse, eh il diniego all'accesso della procedura di asilo se non addirittura arresti arbitrari e eh procedure di detenzione. Io non non lo faccio per gusto della violenza e dell'orrido ma è necessario condividere quelle che sono state delle immagini eh divulgate da dal DRC e riprese dal Guardian poche settimane fa, pochi giorni fa e che riguardano eh come dire la traduzione in fotografia dei numeri che abbiamo visto fino adesso. Quindi queste sono le violenze che vengono riportate da parte della polizia croata che sono state pubblicate dal Guardian e che quindi condivido con voi eh delle persone che appunto eh lungo la rotta balcanica eh vengono beccati dai croati che eh appunto inveiscono su di loro allo scopo di eh come dire eh cercare di interrompere la rotta balcana, il flusso lungo la rotta balcanica. Commetteremmo però un errore se ritenessimo unicamente la polizia croata coinvolta in questo disegno di contrasto di controllo e di esternalizzazione ma è proprio la fonte di quella del prima della prima parte del mio intervento Frontex invece un'agenzia fortemente coinvolta in questa strategia come del resto dalle stessa come dire riconosciuto attraverso i suoi attraverso la sua piattaforma e come ampiamente foraggiata da parte della commissione europea e delle istituzioni europee noi su altra economia ci siamo occupati nei nei mesi scorsi di raccontare l'esplosione del budget dell'agenzia Frontex dall'anno della sua fondazione all'ultimo regolamento approvato alla fine del 2019. voi vedete che esplosione in termine di budget misurato in milioni di euro si prevede dall'inizio del passaggio tra 2020 e 2021 e fino al 2025. Frontex ha il precipo obiettivo e scopo di controllare le frontiere, di stipulare accordi anche con paesi esterni all'unione per condurre delle missioni di infrastrutturazione e con lo scopo di appunto controllare le frontiere e limitare i cosiddetti attraversamenti irregolari e queste vedete che sono alcune delle aree principali di intervento vedete come la zona dei Balcani è fortemente interessata oltre ovviamente al Mediterraneo centrale che diciamo come Italia ci vede più coinvolti. A luglio di quest'anno ad esempio è stata annunciata un'altra missione in Montenegro proprio alla fine di contrastare la cosiddetta immigrazione illegale. Fa sorridere, questo lo metto solo per un sorriso amaro, vedere poi quando si tratta della sorveglianza marittima da parte di Frontex vedere quali sono gli assetti messi in campo e quindi palloni aerostatici quando invece assistiamo e i fatti di questi giorni sono drammatici a naufragi in mare e forse occorrerebbero assetti di soccorso e meno palloni aerostatici di sorveglianza. Vado verso la conclusione e mi avvicino a quello che è stato oggetto di una nostra inchiesta di qualche settimana fa e cioè la strategia italiana cioè perché il governo italiano e perché l'Italia è coinvolto in questo triste gioco della rotta balcanica per citare il game tentato dagli asilanti di poco fa perché dal maggio di quest'anno il Viminale e la prefettura di Trieste hanno annunciato per citare dal sito della prefettura di Trieste una ulteriore intensificazione del dispositivo di controllo di retrovalico in funzione di contrasto agli ingressi irregolari in territorio nazionale quindi viene annunciata una stretta nel controllo delle frontiere tra Italia e Slovenia e la prefettura di Trieste lo fa citando lo vedete evidenziato in alto a sinistra precise direttive ministeriali quindi c'è una indicazione del ministero che ha condiviso cito l'esigenza di rinnovare le metodologie di cooperazione nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina volte anche a dare nuovo impulso alle procedure di riammissione informale perché così vengono definiti burocraticamente i respingimenti dei migranti dei richiedenti asilo secondo le vigenti disposizioni pattizie con la Slovenia e in sintonia con la normativa europea in tema di protezione internazionale qui ovviamente c'è da un lato la coda di paglia dall'altro l'accenno a un accordo bilaterale con la Slovenia che risale al 1996 in forza della quale il Viminale autorizza questa stretta nelle riammissioni come si è tradotto in numeri e in quantità queste prassi di respingimenti lo ha riferito da ultimo la ministra dell'interno Luciano Lamorgese in commissione Schengen quando ha dichiarato che le riammissioni informali sono state nel 2020 tre volte quelle del 2019 e che in un anno ne sono state fatte 852 e soltanto nell'ultimo periodo e Lamorgese si riferisce a luglio settembre ne sono state fatte più di 500 a seguito di un'apposita direttiva e qui ve l'ho evidenziato perché poi cercheremo di capire di che cosa si tratta di questa apposita direttiva cerco di accelerare perché sono sto esaurendo i miei 20 minuti quando l'onorevole Maggi ha interpellato il ministero dell'interno per chiedere come venissero svolte quelle procedure se fossero destinatari di respingimenti anche i richiedenti asilo bene ha ricevuto una risposta a dir poco preoccupante da parte del ministero dell'interno attraverso le parole del sottosegretario Achille Variati che così ha risposto sostenendo che premetto che le procedure informali di riammissioni slovenia vengono applicate nei confronti dei migranti rintracciati a ridosso della linea confinare a italo slovena quando risulti la provenienza dal territorio sloveno anche qualora sia manifestata l'intenzione di richiedere protezione internazionale cioè il ministero dell'interno mette nero su bianco in questa risposta di cui potete trovare anche il video sul sito della camera che sono oggetto di respingimento in palese violazione con il diritto internazionale con le stesse carte che l'unione europea si è data anche i richiedenti asilo anche qualora venisse manifestata l'intenzione di richiedere protezione internazionale aggiungendo poi se il quadro non fosse già grave che tali procedure non sono applicabili ai cittadini stranieri cui lo status di rifugiato fosse già stato riconosciuto come dire loro non li possiamo respingere e verrebbe da dire ci mancherebbe altro ma questo è stato riferito in aula parlamentare l'esecuzione di tale tipologia di riammissione non comporta la redazione di un provvedimento formale quindi non abbiamo nemmeno le carte dei respingimenti applicati dall'italia sostiene il governo perché viene applicata una prassi consolidata per speditive procedure previste da un accordo di riammissione siglato nel 1996 facendo un salto in avanti cosa sostiene il governo italiano scusate ma ho poco tempo e devo andare un po spedito cosa sostiene il governo italiano che le preoccupazioni che questi respingimenti siano a catena e quindi che da respinti in slovenia poi si finisca in croazia e si finisca in quella dinamica raccontata da drc e dalle fotografie pubblicate dal guardian e di cui abbiamo parlato anche nel nostro dossier su altra economia bene il governo italiano dice no la slovenia e la croazia essendo membri dell'unione europea sono paesi intrinsecamente sicuri come intrinsecamente un porto sicuro quello della libia pare richeggiare e qui ed è il motivo per cui a settembre abbiamo fatto la copertina respinti alla luce del sole ci siamo chiesti beh ma se è una procedura speditiva e così alla luce del sole caro ministero dell'interno caro ovviamente in senso lato del super donati non sto cercando di andare spedito facci vedere le carte facci vedere quelle precise direttive ministeriali in forza delle quali da maggio stai intensificando i respingimenti bene la risposta che ci è stata data come altra economia alla richiesta di accesso civico generalizzato alla circolare del capo di gabinetto del ministero dell'interno la risposta è stata come purtroppo accade spesso in questi casi che essendo un accordo di polizia la pubblicazione di quelle direttive determinerebbe un grave pregiudizio un concreto pregiudizio ai rapporti internazionali tra italia e slovenia e quindi mancata trasparenza faccio notare con una punta di polemica che il capo di gabinetto che firma questo provvedimento e che ha firmato anche la direttiva che ha dato il via libera alla stretta e matteo piantedosi già capo di gabinetto dell'ex ministro matteo salvini poi capo di gabinetto della ministra luciano la morgese e oggi promosso a prefetto di roma concludo mi prendo gli ultimi tre minuti per invece raccontare che cosa accade fuori dalla ipocrisia del ministero dell'interno italiano e cioè l'attenzione alla denuncia da parte delle nazioni unite da ultimo il relatore speciale per i diritti umani dei migranti il cileno felipe gonzalez morales che ha invece sanzionato duramente almeno dal punto di vista di statement pubblici l'azione delle polizie croate ricordando un fatto gravissimo avvenuto nel maggio di quest'anno quando 16 cittadini pakistani hanno riferito di abusi violenti e gravissimi in territorio croato del tipo essere stati legati a degli alberi aversi essersi visti rapinati essersi visti esplodere dei colpi di pistola al vicino alla testa con la minaccia di non ripresentarsi più in croazia perché sarebbe stata l'ultima volta prima di essere con sparsi di maionese nei capelli e poi riaccompagnati poco vicini alla bosnia per respingimenti collettivi bene il ministro degli esteri croato ha risposto alle denunce di gonzalez morales e dell'altro special rapportor melzer a fine luglio sostenendo di fatto e accusandoli di fatto di farsi portavoce delle accuse di amnesty international e dimostrando da parte della croazia paese europeo la considerazione che la croazia ha degli istituti internazionali deputati alla tutela dei diritti delle persone sorvolo su questa risposta del ministro croato chi fosse interessato sono assolutamente disponibile a condividerla segnalo per chi fosse interessato uno l'intervista che abbiamo fatto a settembre allo special rapportor gonzalez morales il quale contraddicendo il governo italiano alla domanda ma quindi la croazia è un paese intrinsecamente sicuro per i migranti la sua risposta è stata non sono nella posizione di poter formulare una considerazione generale quello che posso dire è che alle persone migranti che attraversano in particolare il confine giungendo dalla bosnia non è garantito il diritto di chiedere asilo ma queste vengono espulse collettivamente senza una procedura fortunatamente anche se tardivamente gli abusi delle polizie croate lungo le frontiere sono finalmente finite sotto l'esame del difensore civico dell'unione europea che ha messo sotto supervisione anche la commissione per l'investimento di risorse pubbliche dei cittadini europei date a zagabria per monitorare la gestione delle frontiere e su questo segnalo anche la presa di posizione della commissaria per i diritti umani del consiglio d'europa miatovic che ha a fine ottobre di nuovo invitato e sanzionato la croazia per porre fine a queste violenze va però capito che ci sta dentro uno schema di politiche europee di cui la croazia come l'italia è per quanto riguarda la rotta nel mediterraneo centrale con appalti e con forniture e con formazione dei libici per i respingimenti delegati allo stesso modo la croazia indossa questi panni all'interno di un disegno di esternalizzazione di violenze concludo con questa fotografia che hanno scattato i due fotografi lapini e muscella che illustrano il nostro dossier perché credo che negli occhi di questo migrante afgano mentre abbandona il campo temporanea di vucciac in questi occhi ci stia credo uno spaccato dei nostri tempi delle nostre responsabilità e di quella vergogna di cui agostino zanotti prima bene riferiva scusate sono stato un po lungo e termino qua grazie per l'attenzione scusate sono stato un po' di più